Buon salve, bentornati su No Mamamazzo. Parte del viaggio è la fine e anche noi siamo arrivati all'ultima recensione dell'ultimo episodio del crossover Crisi sulle terre infinite. Come molti di voi sapranno, il crossover è stato diviso in cinque episodi, ognuno dei quali è ambientato all'interno delle serie principali della CW. Il primo episodio era in Supergirl, il secondo episodio era in Batwoman, il terzo episodio era in Flash, il quarto episodio era in Arrow e il quinto e ultimo episodio è ambientato in Legends of Tomorrow. Ve lo dico perché parte dell'episodio richiama un po' quella leggerezza, quel prendersi in giro, quell'autoironia tipico del clima che c'è nel telefilm Legends of Tomorrow. Prima di cominciare però vi invito innanzitutto a iscrivervi al canale, a mettere un bel mi piace così a fiducia su questo video e anche su tutti gli altri in generale del mio canale, di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che possono aver amato questo crossover o anche se non l'hanno amato per qualche ragione che possono amare la DC Comics, la Justice League o che dir si voglia, e di commentare qui sotto con quello che vi è parso di questo crossover, ma vi invito anche a commentare se per caso scorgete i vari fumetti della DC Comics che ho messo alle mie spalle. Se avete un maxi schermo da 50 pollici o se volete zoomare magari divertiamoci, divertitevi a trovare i vari fumetti o quantomeno i personaggi disegnati in questi fumetti. Se riuscite, non si vince nulla proprio perché so che può essere molto difficile con uno schermo molto piccolo. Bene, bando alle ciance. Allora, il quinto episodio di questo crossover praticamente parte con il mondo, con l'universo, che è già stato ripristinato, già stato ripristinato dal sacrificio di Oliver Queen alla fine del quarto episodio e con l'aiuto di tutti i campioni che si sono concentrati sul sacrificio appunto di Oliver Queen. In questo episodio non si vede un proseguo della battaglia, la battaglia è semplicemente terminata e ora vediamo gli esiti di questo sacrificio. In poche parole, si parte dal punto di vista di Supergirl che, convinta ancora di essere nella battaglia, quasi incenerisce la sua sorellastra, Alex, con un getto laser dagli occhi, per poi rendersi conto che si trova sulla Terra, si trova sulla Terra che è stata ripristinata, nulla è stato spazzato via o almeno è quello che crede. Perché infatti qualcosa, qualcosa di fondamentale è cambiato. Mi riferisco, tra le altre cose, all'ex Luthor. Ne parlo in questo episodio perché nello scorso episodio ho lasciato anche un po' perdere troppo l'ex Luthor che molti di voi anche nella live che ho fatto con Atex Channel sul canale Viola ci hanno chiesto ma cosa ne pensi di l'ex Luthor, cosa te ne è parso di questo l'ex Luthor. Allora, ripeto, l'ex Luthor nel quarto episodio secondo me poteva dare anche di più di quello che ha dato, però ha detto una cosa molto fondamentale. Mentre combatteva questi parademoni di Antimonitor, con i poteri che si era auto inculcato riscrivendo il libro del destino, ha detto una frase così, tra le righe, ha detto è questo che si prova a fare l'eroe, ci potrei prendere gusto. E questa frase non è da dare per scontato perché noi scopriamo in questo universo ricreato che l'ex Luthor sta vincendo il premio Nobel. Ora, questo cosa significa? Che l'ex Luthor quando si è concentrato sulla verità, guardando il sacrificio di Oliver Queen, in realtà si è focalizzato facendo credere a tutti di essere lui stesso un eroe o per qualche ragione questo universo ricreato da Spectre, da Oliver Queen nei panni di Spectre ha in un certo senso punito l'ex Luthor costringendolo a essere un eroe oppure ancora lui è tutta una facciata, che è l'opinione più plausibile anche dal punto di vista di Supergirl che sia tutta una facciata di Lex Luthor per nascondere i suoi loschi traffici e essere agli occhi del mondo un eroe questa è una cosa molto interessante che può essere sviluppata nei prossimi episodi. Io addirittura avrei usato di più, dal momento che alla fine dell'episodio si vede il presidente degli Stati Uniti io avrei usato di più, avrei fatto diventare Lex Luthor il presidente degli Stati Uniti così come è accaduto anche nei fumetti della DC Comics. Un'ultima cosa riferita all'episodio, al quarto episodio, quello ambientato in arro sempre riguardo Lex Luthor che ho detto nella live ma non l'ho detto nel mio video Lex Luthor e Monitor, quando chiacchierano, in quell'episodio Lex Luthor cita una serie a fumetti The Brave and the Bold, scritto così come ve lo metto Lex Luthor dice Anti-Monitor, perché non ci mettiamo in società io e te? The Brave and the Bold, cioè il coraggioso e il pelato quindi con questo gioco di parole bald, bold, cita una serie a fumetti e una serie a cartoni animati Batman The Brave and the Bold, chiuso parentesi ci tenevo a dire questo perché è stata una chicca che ho notato e mi è piaciuto appunto c'è Lex Luthor che vince il premio Nobel sotto lo sguardo atterrito di Supergirl che cerca di andare da sua sorella e da Martian Manhunter per capire cosa è successo e Martian Manhunter che innanzitutto è un campione come Supergirl in più ha il dono di leggere nei pensieri, comunicare nei pensieri e far ricordare i pensieri alle altre persone toccandole, cerca un po' di capire e di far capire cosa è successo ovvero è vero che l'universo è stato riscritto, che è stato ricostruito scusate da Spectre però chiaramente è stato in un certo senso rimescolato in qualche modo innanzitutto Lex Luthor appunto pare essere buono agli occhi dell'opinione pubblica ma ci accorgiamo subito dopo che è successo anche qualcos'altro ovvero che non c'è più un multiverso ma c'è un universo non c'è più Terra 1, Terra 2, Terra 38 dove dovremmo essere se siamo nell'ambientazione di Supergirl perché vediamo subito Barry Allen che compare insieme a Supergirl suppongo a National City a combattere uno dei suoi villain per poi essere fermato da un passante che ha visto la dinamica dell'incidente e scopriamo da questo passante che per il resto del mondo c'è sempre stata un'unica Terra tant'è che tutti conoscono Flash come conoscono Supergirl come conoscono probabilmente Martian Manhunter, Superman, Oliver Queen nei panni di Arrow eccetera eccetera Batwoman eccetera 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 questo fa capire ai nostri eroi che tutti i multiversi finora conosciuti sono stati tutte le terre infinite finora conosciute sono state racchiuse in un'unica Terra che chiameremo Terra Prime tutto questo come avevo previsto nel mio video verso crisi sulle terre infinite di cui vi metto qua sopra il link così se volete andare a vedere è stato fatto per unire la Terra 38 di Supergirl che era l'unica terra separata tra quelle dei protagonisti principali delle serie tv al resto delle terre, a Terra 1 se così si vuol dire perché poi sì è vero che c'erano tante altre terre ma erano abitate da personaggi secondari invece Supergirl con Superman e tutto il team erano in Terra 38 questo perché inizialmente il telefilm Supergirl non era nemmeno del network CW adesso è tutto sotto la CW di conseguenza è anche più comodo ed è molto più bello per noi fan della DC Comics di questi eroi vedere gli eroi che collaborano tra loro anche in occasioni comuni di conseguenza hanno unito la Terra 38 a questa nuova Terra che si chiama Terra Prime dove pare che da sempre i nostri eroi abbiano convissuto quindi ripeto è cambiato tutto per i paragoni e per noi spettatori che abbiamo visto le serie tv fino adesso abbiamo visto il crossover crisi sulle terre infinite ma per gli abitanti di Terra Prime questa è sempre stata la realtà Supergirl, Flash, tutti gli altri eroi di Terra 1 e tutti gli eroi di Terra 38 e eventuali villain che abbiamo visto magari venuti da altre terre sono sempre stati insieme in Terra Prime ma badate bene, ci tengo a specificarlo vivono tutti in un'unica terra che è Terra Prime ma non abitano tutti nella stessa città ci tengo a dirlo perché in questa puntata la gente va e viene dai laboratori Star Labs alla base di Green Arrow chi più ne ha più ne metta come se fossero tutti a 5 minuti di strada a piedi in realtà non è così Supergirl vive ancora e agisce ancora a National City Superman vive e agisce ancora a Metropolis Batwoman vive e agisce ancora a Gotham City Flash vive e agisce ancora a Central City e il Team Arrow vive e agisce ancora a Star City mi metto qui perché spero poi con una grafichetta di farvi vedere la distanza tra queste città comunque immaginarie create dalla DC Comics poi è vero in questo episodio sembra proprio che stiano tutti lì nello stesso paesino di mille anime in realtà non è così però ce ne siamo accorti che questa puntata è stata girata molto in fretta a un certo punto c'è Superman senza che nessuno lo convochi però c'è perché è Superman quindi è stata girata probabilmente in modo anche più lungo e poi hanno tolto tutto quello che potevano togliere perché la puntata deve durare 40-45 minuti quindi ci sta che non hanno mostrato il tempo in cui uno ci mette ad andare da una città all'altra parlo di Nash Wells per esempio che non ha superpoteri Flash e Supergirl possono andare in tutta la Terra a velocità supersonica quindi da lì non si capirebbe molto nella prima parte appunto di questo episodio a parte dopo che abbiamo capito come è stata ristrutturata come è stato ristrutturato l'universo e Terra Prime si continua con l'elogio funebre di Green Arrow, di Oliver Queen e dura davvero tanto in tutto l'episodio viene continuamente ripetuto, reiterato il fatto che si ringrazia Oliver Queen, Green Arrow per il sacrificio che ha compiuto a ripristinare l'universo proprio come a ringraziare l'attore Stephen Hammel che per otto lunghi anni è stato il protagonista di Green Arrow e ha creato volontariamente o involontariamente, indirettamente tutti gli altri eroi che sono usciti dal suo show principale hanno fatto un commiato enorme a questo attore che spero proprio si sia commosso che però per noi spettatori è stato anche un pochino trito e ritrito per carità, bellissimo però hanno elogiato meno Iron Man in Endgame che non Green Arrow in questo episodio fortunatamente c'è un grosso cattivone da combattere stile Legends of Tomorrow che ci distrae un attimino da questa tristezza funerea e questo cattivone è Bibo che a quanto capito è uno dei cattivi che si è già visto nei vari episodi di Legends of Tomorrow che è fondamentalmente un grossissimo pupazzone credo che abbiano scelto proprio questo grossissimo pupazzone proprio perché è divertente da vedere quindi alleggerisce un po' il tono della morte di Green Arrow è grosso e quindi molti eroi insieme devono combatterlo e quindi hanno unito un pochino queste due cose e poi è un cattivo tipico di Legends of Tomorrow episodio in cui si svolge il crossover in questo episodio dopo che è stato sconfitto questo grosso Bibo tutti festeggiano tranne Flash e White Canary di Sarah Lance che appunto parlano ancora di come in questo caso di come Oliver Queen di come la morte di Oliver Queen per Sarah Lance fosse, significasse anche perdere l'ultimo legame alla vita che aveva prima di tutto questo fantasy, fantascienza che gli è arrivato addosso prima della vita che aveva come capitana prima della Wave Rider prima anche di quel fatidico viaggio sulla barca che ha creato anche Oliver Queen come Green Arrow ed è anche stato un momento molto bello io ho detto che nell'altro episodio tutti questi momenti alla Dawson Creek io li chiamo perché poi è lo stesso network che ha generato Dawson Creek, la CW tutti questi momenti molto introspettivi alla Dawson Creek, molto teen drama nell'episodio precedente sembravano un po' vuoti questo invece mi è piaciuto molto perché può capitare a tutti di perdere delle persone care fino a che non si arriva al punto in cui tutte le persone care che ci hanno accompagnato durante la nostra infanzia la nostra adolescenza la nostra giovinezza il nostro periodo prima di diventare quello che siamo ora ci abbandonano e quindi ci sembra di perdere tutti i legami e in questo caso Barry Allen dice a Sarah una cosa che si vede spesso in vari telefilm però qua è spiegato in modo anche appunto post-lutto che appunto la famiglia non è per forza la famiglia che ci viene generata da cui veniamo generati non è per forza il legame di sangue in questo caso Barry Allen intendeva che la famiglia non deve essere per forza le persone che ti conoscevano prima quindi non deve essere per forza Oliver Queen e adesso che Oliver Queen è morto e sono morte tutte le persone che ti conoscevano come eri prima adesso tu non sei nessuno tu sei quello che sei adesso e la famiglia sono le persone da cui ci circondiamo per scelta quindi il gruppo di amici il gruppo di colleghi il gruppo di persone con cui faccio qualche attività e così via frase non originale ma in questo contesto mi è piaciuta molto anche se mi è piaciuta molto di più la riflessione di Sarah Lenz di come appunto perdere l'ultimo legame con quella che era una vita che vivevamo precedentemente al nostro stato attuale è un po' come perdere una parte di noi stessi e è una cosa che comunque fa riflettere vi invito a riflettere su questo anche quest'altro momento viene interrotto invece da quello che è poi la battaglia finale delle nostre Legends of Tomorrow dei nostri eroi in generale ovvero il ritorno di una punta di antimateria il ritorno degli scagnozzi dell'antimonitor e il ritorno dell'antimonitor in persona non si sa perché pare che il sacrificio di Spectre di Oliver Queen nei panni di Spectre sia riuscito nell'intento di ricreare l'universo ma non si è riuscito anche nell'intento di sconfiggere eliminare uccidere definitivamente l'antimonitor perché? spiegano perché siccome è fatto di antimateria non si può uccidere vero? ok sì va bene diciamo che è vero di conseguenza elaborano un piano per poterlo rendere inoffensivo per sempre e qui tornano in gioco le persone grandi assenti nello scorso episodio proprio perché nello scorso episodio erano rimasti vivi solo i campioni solo i sette campioni in questo episodio invece ripristinato l'universo tornano a esserci anche i personaggi comprimari quindi grazie all'idea di Atom e del dottor Choi vogliono creare una tecnologia basata appunto sulla tecnologia di Atom per rimpicciolire all'infinito l'antimonitor in modo che diventi sempre sempre più piccolo e diventi inoffensivo e finisca nell'Atomverso come dice Atom e il dottor Choi invece dice sarebbe meglio chiamarlo microverso e Atom fa una battuta dicendo ah sì è molto meglio come nome ma avremo problemi con il copyright è un riferimento al microverso del film Ant-Man che è stato molto utile in Avengers Endgame altra citazione ad Avengers Endgame effettivamente si chiama microverso nel nel mondo Marvel ci avete fatto caso di come il viaggio nel tempo sia quello delle Legends of Tomorrow sia quello che fa Barry Allen quando incasina la linea temporale sia molto diverso rispetto al concetto di viaggio nel tempo dei Marvel Cinematic Universe dico Marvel Cinematic Universe perché non so la Marvel Fumetti come gestisca il viaggio nel tempo il viaggio nel tempo della DC Comics e della CW in questo caso di questi telefilm è il classico viaggio nel tempo a cui tutti noi siamo abituati quello di Ritorno al Futuro quello che se tu vai nel passato e cambi un evento puoi spostare la linea temporale e creare un evento totalmente diverso e se tu torni nel tuo presente torni nel presente della nuova linea temporale che tu hai creato questo è Flashpoint questo è Ritorno al Futuro 2 quando Biff gioca alle corse e crea un presente alternativo ok? ci siamo se vado troppo veloce potete rallentare quello che dico con la velocità di YouTube mentre il viaggio nel tempo secondo Avengers Endgame facciamola semplice non dice questo dice che se tu vai nel passato non puoi cambiare il presente perché quel passato in realtà sarebbe il tuo futuro cosa un po' complicata che si sono inventati per pararsi il culo per scrivere anche Avengers Endgame come volevano scriverlo e non dare soluzioni alternative proprio per poter scrivere le cose come le volevano scrivere nel film e ci tengo a dirlo perché appunto è vero che molti criticano i telefilm della CW perché ok? sono scritti male sono cagate eccetera eccetera non c'è la qualità filmica registica di sceneggiatura che ci può essere per esempio in Avengers Endgame piuttosto che nei film della Marvel o nelle serie TV Netflix della Marvel ok però sti cazzi voglio dire anche Avengers Endgame è pieno di cose che sono scritte così perché sì se no si incasina tutto quindi anche Avengers Endgame che per carità è qualitativamente superiore a un telefilm di un network privato ma non è esente da difetti ci tengo a dirlo ok questo genere di serie TV che molti youtuber quasi tutti snobbano proprio per questo motivo perché sono scritte male perché sembra di vedere Dozon Creek perché è troppo sentimentale è troppo noioso è vero è vero tutto però io che amo Flash me lo guardo in tutte le salse qual è il problema? il problema è che molte persone credono che il genere supereroistico sia appunto un genere in realtà non è così la Marvel ce lo sta insegnando molto bene con gli ultimi film che ha generato un film di supereroi può essere thriller può essere action può essere commedia romantica può essere horror e così lo sono anche i telefilm della CW il telefilm della CW Flash Arrow Legends anzi Flash e Supergirl sono teen drama sono molto sentimentali sono un genere Legends of Tomorrow è una commedia Arrow è già più serio Black Lighting che è sempre della CW è molto molto più terra terra è molto più urbano mi ha ricordato molto Daredevil Luke Cage ma scritto meglio ok è scritto meglio delle serie tv Netflix io sto guardando la prima e la seconda stagione per ora quindi anche nel mondo della CW ci sono diversi sottogeneri che possono essere apprezzati come non essere apprezzati chi ama il personaggio come nel mio caso io amo il personaggio di Flash cerco di guardare comunque tutto ciò che riguarda Flash ci sono state puntate ci sono state intere stagioni di Flash che mi avrebbero attaccato alla canna del gas da tanto che mi rompevano le palle ma comunque me le sono volute guardare per avere una visione d'insieme del personaggio che amo tanto stavo dicendo il viaggio nel tempo di Avengers Endgame dice che se tu vai nel passato comunque non cambi il presente salvo che non rubi le gemme dell'infinito perché sono delle singolarità che non possono essere modificate quindi se vengono spostate quelle sì che cambiano il corso del tempo ma se tu fai qualcosa di minimo non vai a cambiare lo scorrere degli eventi questo è per esempio il viaggio nel tempo di Dragon Ball Z Trunks viaggia nel passato per cercare di salvare il suo mondo la sua famiglia e i guerrieri Z che sono stati tutti sconfitti dai cyborg però quando torna indietro nella sua linea temporale non è cambiato nulla allora cosa ha fatto? ha semplicemente creato una linea temporale alternativa dove queste cose non sono successe in modo che comunque abbia salvato una versione alternativa dei suoi amici ma comunque vive nel futuro orrendo da qui è venuto quindi ricapitolando viaggio nel tempo del network CW della DC Comics stile ritorno al futuro vado nel passato cambio il presente viaggio nel tempo di Avengers Endgame stile Trunks Dragon Ball Z vado nel passato creo una linea temporale alternativa che comunque non è la mia quando torno nel presente torno nella mia linea temporale alternativa qual è il viaggio nel tempo che preferite voi? io preferisco sempre sempre comunque perché è più facile la versione di ritorno al futuro per quanto io ami la storia di Trunks di Dragon Ball Z e per quanto io ami Avengers Endgame però preferirò sempre il viaggio nel tempo alla ritorno al futuro chiusa anche la parentesi del viaggio nel tempo scusate ho messo delle parentesi nella grafica in modo che non impazziate concluso appunto questo combattimento di rimpicciolimento dell'antimonitor si va all'epilogo dell'epilogo di quello che è questo quinto episodio di crisi sulle terre infinite dove c'è una voce narrante che ci spiega che il fatto che ora sia tutto unito in Terra Prime non significa che non si siano creati comunque degli altri multiversi in seguito a questa Terra Prime e ci mostra ancora altri camei molto interessanti molto carini di altre serie tv della CW che abbiamo già visto prima o che non abbiamo ancora visto ci mostra una Terra 2 che non è la Terra 2 che conoscevamo prima quella con Jesse Quick e Harrison Wells di Terra 2 ci mostra una Terra 19 che è la Terra di Swamp Thing il mostro della palude della DC Comics quello da cui poi nasce anche il fumetto di Hellblazer quello di John Constantine che purtroppo ha avuto una sola stagione e che potete trovare su Amazon Prime video se non ricordo male vi consiglio di andarlo a vedere io ho iniziato le prime puntate adesso proprio perché per avere una conoscenza generale di questo multiverso mi sto guardando anche le altre serie tv della DC Comics e poi c'è un errorino ci mostra di nuovo Terra 9 che è la Terra di Titans e poi ci mostra Terra 21 e vediamo il telefilm Doom Patrol in realtà Doom Patrol non è in una terra diversa da Titans sono nella stessa terra tant'è che lo vediamo nella prima serie nella prima stagione di Titans c'è una puntata dedicata alla Doom Patrol e quella puntata serve poi a far sviluppare lo spin-off omonimo che si può trovare su anche questo su Amazon Prime Video se non sbaglio o su Netflix scusate ma non me lo ricordo però andatelo a cercare ecco hanno fatto questo errore mi dispiace tanto perché queste cose mi danno un po' fastidio potevano far vedere semplicemente Terra 9 con sia i Titans che la Doom Patrol e chi lo sapeva apprezzava questa cosa chi invece probabilmente non sapeva che erano ambientati nello stesso mondo lo avrebbe scoperto invece così hanno messo delle terre a caso senza sapere che erano ambientati nello stesso mondo un vero peccato perché questa cosa non mi è piaciuta c'è stato il finalissimo con Barry Allen e Supergirl che hanno creato una sorta di base per la Justice League chiamiamola così con questo tavolo con questa tavola rotonda con una sedia vuota in memoria di Oliver Queen di Green Arrow e un posto per ogni eroe importante perché i comprimari a quanto pare non hanno un posto stanno in piedi cazzi loro però Superman ha la sua sedia Marshal Manhunter ha la sua sedia Supergirl ha la sua sedia Batwoman ha la sua sedia Flash ha la sua sedia e Dulcis in fundo ma se avete visto il telefilm lo saprete Black Lighting che è un telefilm anch'esso nel network CW ha una sua sedia perché anche lui adesso vive in Terra Prime a Freeland di Terra Prime questo amalgama di di terre di personaggi tutti in un'unica terra mi è piaciuto molto e se devo dare un volto a tutto questo mi è piaciuto ancora di più il fatto che abbiano unito proprio Black Lighting in tutta questa combricola più ancora che Supergirl che comunque già interagiva con gli altri personaggi Black Lighting invece era totalmente fuori da questo contesto pur essendo un eroe DC Comics a tutti gli effetti lo vedete qui se zoomate è nella Justice League e invece parliamo delle cose che mi stanno facendo pensare che mi stanno facendo storcere il naso che credo che non risolveranno mai neanche avvenire lo spero sarebbe uno spunto interessante ma non credo lo faranno mi riferisco al fatto che appunto hanno unito tutte le terre le versioni alternative di noi stessi delle altre terre sono doppioni sono state unite unite oppure sono delle nuove persone che non sono nel me stesso di terra uno nel me stesso di terra 38 ma il nuovo me stesso di terra prime se capite cosa intendo mi verrebbe da pensare l'ultima ipotesi cioè che tutte queste persone singolarmente siano un'amalgama delle persone che hanno vissuto nelle rispettive terre singolarmente ad esclusione dei campioni perché sennò poi si fa confusione quindi mi viene da pensare che Flash che è un campione non si sia mischiato ai Barry Allen delle altre terre ma per esempio Killer Frost è la Killer Frost di terra uno o è la Killer Frost che abbiamo visto per esempio in terra due quella dove Barry Allen non ha i superpoteri o terra tre non mi ricordo o è un'amalgama di queste due Killer Frost ed è una nuova Killer Frost in questo caso avrebbe delle memorie diverse perché la terra prime dovrebbe essere sostanzialmente terra uno e non altre terre perché l'ha creata Arrow ok grazie però non mi puoi dare solo questa spiegazione perché dico questo perché mi faccio queste pugnette mentale perché c'è un personaggio anzi vabbè due personaggi che più di ogni altro abbiamo visto in tutte le salse in tutte le terre ed è un personaggio molto interessante mi riferisco a Harrison Wells Harrison Wells è stato un personaggio importante sia nella sua versione di Terra 1 che è deceduta ed è stata soppiantata da una persona che ha preso le sue sembianze che è Iobardatone l'antiflash poi abbiamo un Harrison Wells di Terra 2 che è ancora vivo ha perso la sua mente ha una sorta di Alzheimer dovuto al fatto che ha utilizzato troppo una macchina per combattere The Thinker nella quarta stagione e quindi non è più il geniaccio che conoscevamo ma è ancora vivo e poi c'è HR Harrison Wells di Terra 3 che è morto nella terza stagione di The Flash per ingannare Savitar questa cosa è successa non è mai successa e se è successa allora non ci sono stati gli altri Harrison Wells o che hanno fuso le Harrison Wells di Terra 2 e di Terra 3 e quindi sono entrambi morti ma ciò non toglie che è morto anche quello di Terra 1 che però è stato ucciso da Iobardton come possono essersi fusi tutti in un unico nuovo Harrison Wells di Terra Prime se abbiamo evidentemente visto Nash Wells ancora vivo e ancora se stesso ancora Nash Wells e non è una fusione di Nash Wells con tutti gli altri Wells la spiegheranno mai questa cosa o lasceranno sta cagata così questa era una cosa fichissima su cui potevano elaborare un episodio intero ok non l'hanno voluto elaborare nel crossover male perché poteva starci ma spero almeno che lo elaborino nei prossimi episodi di Flash ma lo dubito seriamente perché si focalizzeranno su Bloodwork su quella linea di narrazione e si dimenticheranno del diciamo degli effetti del crossover quindi resterà Nash Wells e non ci saranno altri Wells più simpatici voi sapete che il mio Harrison Wells preferito è quello di Terra 2 mi sarebbe piaciuto se a causa di questo ricreare l'universo avrebbe riacquisito le sue capacità mentali da genio ma dopo che è stata ripristinata la Terra e ho visto Nash Wells ho perso queste ho perso le speranze i grandi assenti Cisco Ramon dove cacchio era nel quinto episodio io capisco che nel terzo scusate dove cacchio era nel quinto episodio io capisco che nel quarto episodio fosse stato spazzato via col resto dell'umanità ma nel quinto episodio quando la Terra era stata ripristinata perché non c'era? lui che ha spiegato il multiverso lui che ha spiegato le terre infinite che le ha nominate che le ha catalogate nella seconda stagione di Flash chi meglio di lui poteva spiegare cosa cacchio era successo adesso in Terra Prime e invece non c'era hanno messo Killer Frost che ha congelato qualche demone e non hanno messo e non hanno messo Cisco Ramon ma perché? perché non l'avete messo? ma pagategli la giornata di lavoro glieli davo io i soldi all'attore no vabbè questa un'assenza molto grave un'altra assenza grave è Jay Garrick Jay Garrick di Terra 3 che non è più Jay Garrick di Terra 3 è Jay Garrick giusto? o è anche Jay Garrick ma è il padre di Barry Allen perché vi ricordo che Jay Garrick ha l'aspetto del padre di Barry Allen perché c'è un legame di parentela nel Jay Garrick di Terra 3 anche questa cosa la spiegheranno in The Flash o la lasceranno così nel dimenticatoio? vedremo ancora Jay Garrick di Terra 3 che non è più Jay Garrick di Terra 3 ma sarà Jay Garrick di Terra Prime? la Terra è popolata di Sosia? e soprattutto se è popolata di Sosia siamo ancora 6 miliardi o siamo mille mila miliardi? quanto è grande la Terra? ha superato la grandezza del Sole? capisco è che un telefilm l'ho detto prima l'ho elogiato prima che per le capacità di un telefilm di un network privato è stato un grosso lavoro questo crossover però a livello di sceneggiatura non dico che devono ficcarcelo in questi 5 episodi e tutte le mie locubrazioni mentali ma gli daranno una spiegazione nei prossimi episodi di Flash non negli altri per carità ma almeno in quelli di Flash sistemeranno questi buchetti io lo spero vivamente proprio perché amo molto i personaggi di Jay Garrick e di Harrison Wells e soprattutto ora che sono tutti in un'unica terra mi piacerebbe un sacco vedere insieme al tavolo dei big anche Jay Garrick anche Jesse Quick Wally West che magari torna a fare qualche comparsata in questi crossover che qua non c'è stato grandissimo assente anche Wally West importantissimo nel crossover fumettistico Wally West più di Barry Allen così come Jay Garrick quindi purtroppo questi grandi assenti li ho voluti nominare perché mi avrebbe fatto molto piacere averli dato che questo era il crossover più sentito della CW di tutti questi anni piuttosto avrei pagato qualche cameo in meno un Bart Ward in meno un Batman di Terra 89 in meno un Kevin Conroy in meno e avrei fatto arrivare queste persone qua queste persone dei telefilm della CW per dargli un ruolo molto più importante scritto nella sceneggiatura non sto dicendo che sono deluso sto dicendo che mi è piaciuto ma sarebbe stato ancora più bello in questo modo qua secondo me poi è chiaro che ogni persona che guarda una partita di calcio e urla all'allenatore sembra il più bravo allenatore del mondo in realtà hanno fatto quello che hanno potuto va benissimo spero che i miei dubbi che ho in testa vengano risolti nei prossimi episodi di Flash che quantomeno resta il telefilm più fantascientifico rispetto agli altri e che quindi può darci una spiegazione di quello che è successo io mi sono dilungato molto proprio perché l'ho detto ho fatto anche una recensione per ogni singolo episodio proprio perché il mio video verso crisi sulle terre infinite dello scorso settembre è tutt'oggi il video più visto del canale e quindi ho voluto dedicarvi più tempo proprio per ogni singolo episodio e quindi anche qui sto andando a briglia sciolta scusate se ho aperto parentesi su parentesi ma è come se parlassi al bar con degli amici e io apro molte parentesi quando parlo al bar con gli amici ho voluto appunto essere lungo perché se siete qua vuol dire che ci tenete a questo telefilm a questo crossover grazie per essere stati con me in tutti questi video chiaramente io salvo richieste particolari o salvo appunto altri video che riscuotano così tanto successo non credo farò mai più delle recensioni dettagliate episodio per episodio però appunto se ci sono richieste io sono qua tempo permettendo le esaudirò io come sempre vi ho già detto di iscrivervi al canale all'inizio ve lo ricordo e per ora solo con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e nel multiverso vi sputo arrivederci di iscrivervi al canale di iscrivervi al canale